Sette persone di quanti che stai sbagliando, ancora c'è qui? L'Ucarelli ha fatto una lettera e ha chiesto lo sblocco domani mattina e una parte del senetico, quindi domani mattina ci darà 100.000 euro. Sono un testo del sblocco, quindi non è che risolviamo grandi problemi. Quindi lunedì mattina L'Ucarelli incontrerà Cano per entrare nei dettagli della vicenda e c'è l'impegno entro mercoledì con la garanzia dei consiglieri Ozzino e Alzetta che hanno seguito tutta la questione, entro mercoledì ci darà una risposta su eventuali ulteriori sblocchi, altrimenti noi valuteremo la cosa da fare. Grazie 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 Grazie